Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica di approfondimento settimanale che presenta le attività del Consiglio del Parlamentino della Toscana. Anche oggi dibattito in aula, ma noi andiamo subito a vedere il nostro sommario con i temi di questa puntata. Il Consiglio regionale è intervenuto sulle piscine private delle strutture ricettive, modificando la legge sui requisiti igienico-sanitari. In particolare, la nuova norma prevede che le vasche si potranno svuotare ogni tre anni e non più a cadenza annuale come avveniva fino a questo momento. La legge, approvata all'unanimità dall'Aula con i voti favorevoli di Partito Democratico, Italia Viva, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto, Merito e Lealtà, consente quindi la possibilità di procedere allo svuotamento delle piscine private a uso collettivo almeno una volta ogni tre anni. Lo svuotamento, che fino ad ora era obbligatorio almeno una volta all'anno, si considera non necessario qualora siano rispettati i parametri a garanzia dell'igiene delle piscine e della sicurezza per la salute degli utenti. Se l'esigenza di pulizia delle vasche e delle pareti della piscina è un tema sanitario che oggi può essere garantito dai piani di autocontrollo della piscina stessa, dall'impiego di prodotti e tecnologie presenti sul mercato, dall'altra parte la nuova norma evita sprechi della risorsa idrica e allo stesso tempo permette anche importanti risparmi economici a strutture ricettive turistiche dotate di piscina. Per quanto riguarda la proposta di legge sulle piscine, credo che sia una questione di buonsenso, cioè con un'autocertificazione che in qualche modo rispetta però determinati parametri si può evitare di riempire le piscine e svuotare e riempire le piscine ogni anno ma farlo ogni tre anni. Questo comporta un consumo di acqua molto inferiore a quello che invece comporterebbe ogni anno e tutto sommato si rispettano quei parametri di igienicità e di salubrità che sono necessari per poter portare avanti un discorso di sicurezza igienica. Quindi benvenga una proposta di legge di questo genere. La norma ha un ambito di applicazione specifico, è quello delle piscine, degli agriturismi, campeggi e strutture simili che sono ad uso pubblico ma riservato ai soggetti che sono alloggiati. Per questa categoria di piscine era possibile, secondo la normativa nazionale, prevedere da parte della regione una normativa attuativa particolare e noi lo abbiamo fatto prevedendo che possano essere svuotate non ogni anno ma ogni tre anni quando ricorrono alcune condizioni e cioè vi sia nei processi di autocontrollo la garanzia della permanenza dei parametri e siano adottate ulteriori misure di salvaguardia della qualità dell'acqua della piscina che verranno dettagliate in un regolamento che la Giunta deve approvare, dice la legge, entro 15 giorni dalla pubblicazione e che nella sostanza saranno meccanismi di pulizia a fondo della piscina, meccanismi di chiusura invernale superficiale della piscina, forme di pulizia dei bordi che spesso i gestori di queste strutture già fanno ma che se fatte in maniera sistematizzata con il controllo della qualità dell'acqua possano permettere in piena sicurezza per la qualità igienica e quindi per la salute dei bagnanti di avere comunque un risparmio idrico importante perché svuotare una piscina vuol dire tantissimi litri e litri di acqua che vengono sprecati e così vengono invece riempiegati e anche un minor costo per gli esercenti delle strutture stesse. Questa è una legge molto importante che va incontro alle esigenze di tutti coloro che hanno una piscina soprattutto ad uso ovviamente pubblico e collettivo così come è definita e come tale non soltanto alberghi, agriturismi, attività in campagna, condomini ma non solo, strutture che poi danno opportunità di utilizzare piscine ad uso pubblico. La possibilità di non dover svuotare ogni anno l'acqua è un elemento che da una parte comporta un grandissimo risparmio economico dall'altra una grandissima risposta in termini di risparmio idrico. La risorsa acqua sappiamo con bene imprescindibile, fondamentale, bisogna tutelarla e come tale bene che si possa verificare su base annua e non solo ovviamente il rispetto di alcuni parametri, questo può impedire di dover svuotare tutti gli anni le piscine che dovrà essere fatto, potrà essere fatto ogni tre anni, è una cosa è farlo tutti gli anni, una cosa è farlo ogni tre anni e questa norma io mi auguro poi possa diventare ovviamente strutturale e consentire a tutte le nostre strutture ricettive e non solo di avere anche un alleggerimento dei costi e soprattutto un risparmio della risorsa idrica. Un anno di attività del difensore civico toscano. È questo il tema di una conferenza stampa che ha fatto il punto sulle principali attività svolte. Sono state 1636 le pratiche lavorate nell'ultimo anno e tanti i rapporti intrapresi con le amministrazioni pubbliche coinvolte e con i cittadini che si sono rivolti al difensore. Questa mattina abbiamo avuto l'occasione in commissione presso il Consiglio regionale di raccontare questo primo anno intenso di lavoro come difensore civico per l'anno 2023. Le istanze che sono state presentate sono 1636. Al di là dei numeri abbiamo anche spiegato un po' il nostro approccio, cioè quanto è importante che poi questi numeri, cioè l'azione di tutela che svolge il difensore civico sia il più possibile un'azione di qualità. E quindi ci siamo impegnati per lo studio, l'approfondimento, l'istruttoria delle istanze ma anche cercando di costruire un dialogo proficuo con i cittadini ma anche con le pubbliche amministrazioni a cui ci rivolgiamo per chiedere, sollecitarle anche ad un rapporto che sia il più chiaro e trasparente possibile. Quindi è cercare di migliorare reciprocamente il nostro rapporto, il supporto che anche come difensore civico possiamo dare ai nostri cittadini. I servizi che offre il difensore civico sono completamente gratuiti. Un'attività molto importante a cui noi teniamo molto è quella per esempio di conciliazione con IT. e quindi sul servizio idrico ed è un'attività che viene svolta dai funzionari dell'ufficio che sono ormai formati, hanno una competenza consolidata ed effettivamente i risultati delle procedure sono sempre piuttosto positivi. Quindi è importante sottolineare anche questa gratuità che però corrisponde anche ad una competenza appunto che arriva da un po' una tradizione storica del difensore civico della Toscana. Noi poi ci occupiamo veramente di tutto, ci occupiamo chiaramente dell'ambito sanitario e il nostro sforzo ulteriore è stato quello di costruire un rapporto diretto e proficuo di confronto con le aziende sanitarie attraverso gli URP. Tavola rotonda nella sede del Consiglio regionale per un confronto sulla conciliazione nel settore idrico con la presenza dell'autorità idrica toscana. Al centro dell'incontro i risultati ottenuti dall'organismo di mediazione in Toscana. Beh oggi diciamo si illustra quello che è un'attività che ormai è entrata a pieno regime che è quella del sistema della conciliazione appunto con un organismo appositamente creato in Toscana gestito dall'autorità idrica toscana insieme al difensore civico e ai gestori del servizio idrico integrato e che consente a tutti gli utenti che hanno fatto reclamo per una qualsiasi motivazione con un disservizio subito o un torto ritenuto tale dagli utenti e che non hanno avuto soddisfazione dai gestori, nelle risposte dei gestori di poter avvalersi di questo strumento che è anche tra l'altro obbligatorio prima di accedere poi alle vie legali, alle famose vie legali, quelli con ricorsi contenziosi e quant'altro. Quindi è uno strumento molto importante soprattutto a tutela degli utenti che serve anche per non ingolfare i nostri tribunali di pratiche che in genere si possano risolvere con un approccio più conciliativo. Questa mattina ospitiamo come difensore civico questa tavola rotonda sulla conciliazione nell'ambito del settore idrico. È un'attività per noi molto importante e servirà oggi per fare il punto sulla situazione quali sono i dati, il procedimento. Il difensore civico attraverso i suoi funzionari svolge attività di mediazione all'interno dell'organismo di conciliazione per il servizio idrico toscano e proprio ieri in occasione della illustrazione della relazione annuale abbiamo confermato per noi l'importanza di questa attività, di questo nostro impegno confermando il nostro impegno nei confronti di IT. Anche i numeri sono soddisfacenti perché su 153 richieste di conciliazione 117 sono state quelle svolte dai funzionari del difensore civico quindi con un esito del procedimento molto soddisfacente quindi sarà una bella occasione anche per ribadire il nostro impegno su questa attività. Confronto tra maggioranza e opposizione sulla Commissione Ambiente e Territorio sul tema dell'aeroporto di Firenze per la messa in sicurezza dello scalo fiorentino una seduta ad hoc della Commissione è stata riprogrammata e l'opposizione attacca la maggioranza su questo argomento. Paio di mesi fa avevo presentato in aula una mozione riguardante appunto la messa in sicurezza dell'aeroporto era una mozione molto dettagliata dove la maggioranza nella persona del Presidente Ceccarelli appunto mi ha chiesto se era possibile riportarla in Commissione non votandola in aula, riportarla in Commissione per analizzarla, approfondirla anche con i vertici di Toscana Aeroporti. Sono passati due mesi, c'era stato dato questo appuntamento per domani mattina alle 10.30 la Commissione si sarebbe spostata per andare perché la distanza è notevole per i dirigenti venire in regione, comunque era la Commissione che si sarebbe recata negli uffici di Toscana Aeroporti per avere appunto delle delucidazioni e fare delle domande al che due giorni fa c'è arrivata una mail a parte del Presidente Gianni dove diceva che questo impegno doveva essere rimandato, annullato e rimandato a data da destinarsi perché lui non poteva essere presente a questo incontro cosa che nessuno gli aveva chiesto sinceramente perché tanti atti abbiamo portato in aula e tante volte il Presidente Gianni mi aveva anche risposto sempre sulla questione dell'aeroporto, della messa in sicurezza dell'aeroporto questa era un'interlocuzione che la Commissione voleva avere con gli uffici e con i vertici di Toscana Aeroporti non era necessaria la sua presenza però ha forzato la mano, così ha voluto e questo appuntamento è stato annullato e non sappiamo quando verrà ripristinato Gianni è il Presidente della Regione ed è un consigliere regionale quindi ha come tutti gli altri consiglieri regionali diritto di partecipare alle riunioni che vengono convocate delle commissioni o in questo caso riunioni informative alle quali sono invitati tutti i consiglieri regionali era stato invitato come tutti venerdì mattina mi ha scritto per chiedermi di valutare la possibilità di rinviare questo incontro perché a lui avrebbe fatto piacere partecipare in quanto più volte era stato anche dal consigliere Galli interrogato in consiglio regionale sul cronoprogramma, sul piano di sviluppo dell'aeroporto di Firenze e di Pisa il Presidente Gianni mi ha detto vorrei partecipare per ascoltare cosa dicono e dire anche io la mia consigliere regionale, Presidente della Regione io non me la sono sentita in maniera irrispettosa di non accogliere una richiesta del Presidente tutto qua, nessuna dietrologia, chi ce la vuol leggere ce la legga non è da parte mia nessuna intenzione di rinviarlo per motivi diversi dall'accoglimento di una richiesta assolutamente legittima all'unanimità è stata approvata la legge che disciplina il soccorso alpino e speleologico della Regione Toscana e riconosce il ruolo fondamentale e istituzionalizza il ruolo del soccorso alpino che è importantissimo, che è importantissimo in questo particolare momento dove la montagna diventa sempre più una montagna frequentata da turisti anche dopo la drammatica vicenda della pandemia per una ricerca di un rapporto diciamo diverso con la natura e con l'ambiente e impegna ancora di più gli uomini e le donne del soccorso alpino con questa legge noi riconosciamo questo ruolo ne definiamo i compiti e incentiviamo diciamo sia gli aspetti relativi al miglioramento del servizio sia quelli che riguardano l'informazione ai cittadini e il tema importantissimo della prevenzione Che la Regione Toscana intervenga per legge come oggi abbiamo fatto per regolare appunto il soccorso alpino intanto ringraziando le tante donne e tanti uomini con una capacità incredibile, con una preparazione oltre la media che sono a disposizione appunto di chi va a giro per la montagna e poi mettendo per iscritto alcune norme tra queste io ho chiesto e è stata accettata tant'è che è diventata legge che sono individuate dei fabbricati da mettere a disposizione il soccorso alpino dove appunto possono essere utilizzati per magazzino per tenere materiale di intervento penso a una barella e che possono essere utilizzati anche come luogo di sempre aperto come luogo di bivacco Grazie a tutti